Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Finalmente la cantante ha fatto chiarezza sulla querelle che era scoppiata con Michele Morrone durante un evento della Settimana della Moda Milanese. Negli ultimi giorni a Milano impazza la Fashion Week con decine di eventi collaterali oltre alle sfilate. Uno di questi è stato al centro di una polemica sui social media, focalizzata su un momento in cui Annalisa è stata fotografata seduta tra due uomini alla sfilata. La foto ha fatto il giro del web e ha suscitato commenti critici riguardo al modo in cui i due uomini sembravano occupare molto spazio tenendo le gambe larghe, apparentemente schiacciando Annalisa tra di loro anche a causa di una grossa pelliccia. Uno dei due uomini era l'attore Michele Morrone, che è stato oggetto di critiche online nonostante lui e Annalisa abbiano dimostrato di avere un rapporto cordiale durante l'evento. Annalisa ha ora affrontato la questione durante un'apparizione nel corso di un programma televisivo ospite da Fiorello. La cantante ha spiegato che Morrone è stato molto gentile e ha cercato di farle spazio, aggiungendo scherzosamente che la vera sfida era rappresentata dalla sua pelliccia che le entrava negli occhi. Le sue parole. Devo dire che Michele Morrone è stato molto gentile. Mi ha fatto spazio per quanto poteva, la stazza c'era. Però è stato molto gentile. Fiorello al che ha replicato, sì, ma in quella foto che circola sono entrambi con le gambe aperte e tu in mezzo. Annalisa, ridendo, ha precisato, lo so, era più che altro la pelliccia che mi entrava negli occhi. E alla domanda su chi fosse ad indossare quella pelliccia, l'artista ha chiuso il discorso, io però andrei avanti, scusate. Con il suo solito tocco di ironia, insomma, Fiorello ha contribuito a gestire la situazione e Annalisa ha invitato i fan di entrambi gli artisti a evitare controversie e a cessare la guerra social che sembrava essere in procinto di scoppiare. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.